Ciao a tutti e bentornati su questo canale. In questo video andremo a vedere la riparazione di una lampada della Linergy, la PR24F10EDR, che è una lampada di emergenza a led unita di 20 led. Una volta aperta c'è la scheda con la batteria. Proviamo a collegarla, quindi colleghiamo la batteria. Collegando l'alimentazione non si accende neanche il led di segnalazione, presenza rete. La batteria è una batteria da 3,2 volt litio, 1500 Ah e dalle dimensioni sembra quasi una 18650. Vediamo questa zona che sembra un po' come se avesse scaldato abbastanza. Proviamo a fare qualche misura e iniziamo a vedere la batteria. se riesco a mettere i puntali. ok, 0 volt, 0 puliti. quindi alimentazione 227 volt arriva all'ingresso del ponte di diodi. proviamo a misurare in continua ai capi del condensatore di livellamento e abbiamo 238 volt e sono pochi. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Probabilmente non è ben livellata la tensione in uscita dal ponte di diodi. sull'uscita del connettore della batteria abbiamo 2,4 volt che sono pochi che dovrebbero essere intorno ai 4, 4,2 volt. Adesso proviamo ad aprire la batteria e vediamo cosa troviamo all'interno. Ho provato a mettere in carica la batteria ma mi tira giù l'alimentazione a zero. quindi probabilmente è andata in corto. Quindi la batteria sicuramente è da sostituire. Recuperiamo i cavi che poi andremo a collegare sulla nuova batteria. Brucia! Stagniamo i poli della batteria. Tra l'altro queste batterie sono batterie che avevo recuperato da un vecchio portatile. Vi lascio il link qui sopra. Una volta saldato i fili del connettore sulla batteria proviamo a collegarla alla scheda e vediamo che la lampada si accende subito e dando corrente la luminosità dei led diminuisce ma non si spegne completamente. Ho coperto i led con del nastro isolante nero in modo da non accecarmi quando si accende. Adesso segniamo il positivo e il negativo del condensatore e proviamo a disaldarlo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Questo è il condensatore che serve a livellare la tensione in uscita dal ponte di Viodi. liberiamo i fori dallo stagno in eccesso. proviamo ad alimentarla senza condensatore. e misuriamo la tensione di 205 volt che è ancora leggermente più bassa. quindi la causa potrebbe essere sicuramente questo condensatore che non è più funzionale. adesso proviamo a misurare il suo valore che dovrebbe essere 3,3 micro 450 volt e posizionando il tester nella lettura dei condensatori andiamo a misurare il suo valore. che è di 3,080 micro quindi questo condensatore sicuramente è da sostituire. quindi procediamo con la sostituzione del condensatore. Grazie a tutti! e proviamo ad alimentare la scheda andiamo a leggere la tensione sul condensatore tensione continua livellata e andiamo a misurare 313 volt colleghiamo anche la batteria andiamo a misurare la tensione che è di 4,13 volt la tensione è i capi della batteria togliamo corrente e i led si accendono ridiamo corrente e i led si spengono quindi la causa era quel condensatore elettrolitico non livellando la tensione dava problemi su tutto il circuito secondario compresa la carica della batteria non ci resta che riassemblare il tutto ultima prova quindi i led si sono accesi dando alimentazione la lampada si spegne e rimane acceso il led verde di segnalazione presenza rete togliendo corrente si spegne il led verde e si accendono i led di illuminazione vi ricordo quando lavorate su queste cose fate sempre attenzione perché c'è la tensione di rete presente sulla scheda se non siete già iscritti al canale ricordatevi di iscrivervi e se attivate anche la campanella riceverete le notifiche per i nuovi video pubblicati ricordatevi anche di mettere un like se il video vi è piaciuto grazie e ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti